Premio Campiello a Sanremo, un evento che si svolgerà sabato in piazza San Siro, un evento che porterà Sanremo tra le città che ospitano i più importanti eventi letterari, un premio importante per questa città. Sì, è un'iniziativa davvero molto importante, siamo molto felici, la prima volta nella storia possiamo dire che il premio Campiello sarà ospitato nella città di Sanremo, ci saranno dunque i cinque scrittori finalisti al premio Campiello, alla 54esima edizione del premio Campiello, e sarà una serata perciò dedicata alla scrittura con Carlo Annese, giornalista che presenterà i cinque scrittori, l'orchestra sinfonica di Sanremo che curerà gli intermezzi musicali, Franco La Sacra che interpreterà le letture. Dunque vi aspettiamo numerosissimi alle 21.15 in piazza San Siro a Sanremo. È un'occasione da non perdere, infatti quando l'assessore Cassini ci ha prospettato la possibilità di poterlo avere qua a Sanremo durante la stagione estiva, noi di Confindustria Imperia non abbiamo potuto che cogliere con favore questa possibilità e ci siamo immediatamente resi disponibili. Ed è con grande soddisfazione che appunto quest'anno Sanremo potrà ospitare questo premio, che comunque è proprio tra i più prestigiosi e innalza la qualità dell'offerta turistica della città matuziana. A me fa molto piacere che Sanremo ospiti il premio Campiello, noi come Royal intendiamo partecipare effettivamente, la cosa ci fa molto piacere perché il sinonimo Sanremo cultura è molto importante che prenda sempre più piede. Un premio importante anche dal punto di vista turistico perché comunque Sanremo rientra in questo modo all'interno di un circuito letterario di grande qualità a livello nazionale? Sicuramente sì, in nome di Sanremo già legato per altri versi al festival e a tante altre manifestazioni sportive, rientra così anche nel cerchio culturale, la cosa ci fa sicuramente piacere perché è bene che il nome di Sanremo giri il più possibile. L'obiettivo infatti è proprio questo, unire il nome di Sanremo a dei circuiti artistici, letterari, culturali di primaria importanza, sia a livello nazionale che internazionale. Lo abbiamo fatto per lo strega questa primavera, lo stiamo facendo quest'estate con la tappa del Campiello, è un inizio che però dà un segnale, dà un messaggio sui termini di grande collaborazione che abbiamo sviluppato anche con altri soggetti cittadini nel nome appunto della qualità e del legame, del rafforzamento del nome di Sanremo intorno ad eventi di primaria importanza. Dicevo è stato un altro elemento di grande soddisfazione, oltre ad avere collegato Sanremo al circuito estivo del premio Campiello, anche la grande collaborazione che si è svolta e si è sviluppata intorno all'evento da parte di Confindustria Imperia, da parte del Casinò di Sanremo e poi da realtà imprenditoriali di eccellenza quali l'Hotel Royal e l'Hotel Londra che ci forniscono la graditissima ospitalità. Quindi insomma il sabato 23 luglio alle 21.15 in piazza, nella storica piazza della Cattedrale di San Siro un evento, una manifestazione di altissima qualità aperto al pubblico, ai nostri concittadini e a tutti i turisti che vorranno intervenire. Grazie a tutti!